C'è una storia dei nostri nonni che anche se non vogliamo ce la portiamo oppresso. Voi dovete sapere che il mio nonno soffriva di stitichezza. Chi non conosce la stitichezza? Assessore! Lo sapete che cos'è, no? E a voi a mangiare yogurt! Senti, mo basta! C'è questa cosa che deve finire, la stitichezza deve finire. Che cosa fa quando uno è stitico e si vuole liberare? E metto la strada, no? Dicono, ma mi vado a liberare la stitichezza. Cerca un borgo, va verso il bosco, cerca una berlì, si nasconde dietro la berlì. E finalmente si libera. E fu così che mio nonno insieme ai tanti altri andò nella macchia per liberarsi. E finalmente te li stronzi! Detto! Detto! Fatto!